Era stata ampiamente prevista, ma francamente nessuno si aspettava una nevicata simile, soprattutto a Civitavecchia. Erano infatti oltre 40 anni dal marzo del 1971 che non si assisteva ad una nevicata di tali dimensioni, che è arrivata a sfiorare i 30 cm di altezza. Notevoli ovviamente i disagi in un territorio assolutamente non abituato a fenomeni di questo genere. Il nostro servizio. I primi fiocchi hanno cominciato a scendere attorno alla mezzanotte e si sono fatti via via sempre più intensi. Attorno alle due era già evidente che si trattava della più grande nevicata di questo primo scorcio del XXI secolo. Insomma, le previsioni degli esperti si sono rivelate più che azzeccate e alla fine il gelo di origine siberiana ha regalato in tutto il comprensorio di Civitavecchia dai 20 ai 50 cm di neve una situazione assolutamente inconsueta in queste zone. Inevitabili i disagi. Grandi problemi alla circolazione ferroviaria bloccata su entrambe le direzioni della tratta Roma-Civitavecchia. Problemi anche lungo le strade sia sulla Aurelia che soprattutto sulla 12. Numerosi gli interventi richiesti ai vigili del fuoco della caserma a Bonifazi. Tra questi il più importante ha riguardato l'impianto sportivo di Via Leopoli dove la neve ha fatto cedere parte della struttura. Il tetto non ha retto al peso della neve ed è collassato andando poi a far cedere il muro di contenimento laterale. Purtroppo il cedimento murario ha danneggiato alcune autovetture, sette ad una prima stima, che si trovavano parcheggiate nei pressi e che hanno subito danni. Ma i danni più ingenti ovviamente li ha subiti la struttura. Al momento l'attività della società di pallamano a partire dalle giovanili e per finire con la prima squadra è sospesa. Ovvie le ripercussioni su diversi servizi. A Civitavecchia le scuole sono rimaste chiuse. Ieri il sindaco Cozzolino aveva preferito non emettere alcuna ordinanza alla luce dei riscontri in quel momento favorevoli provenienti dai bollettini meteo. La situazione è mutata radicalmente dopo la mezzanotte. Poco dopo le due il primo cittadino ha comunicato sul sito istituzionale, sulla pagina Facebook e su alcuni WhatsApp che oggi le scuole sarebbero rimaste chiuse. Ciò ha determinato che questa mattina alcuni ragazzi, soprattutto degli istituti superiori, si sono recati a scuola. Chiusi anche gli uffici comunali e quelli dell'autorità portuale. Palazzo del Pincio informa che per qualsiasi emergenza relativa a servizi sociali, pubblica istruzione o anagrafe si può chiamare lo 076619422. Per questioni di altra natura, come per esempio viabilità, sicurezza o soccorsi, si può chiamare la polizia locale all'800633444 oppure lo 0766590435. La data di maltempo ha portato con sé una ventata di polemiche, a far discutere in particolar modo la scelta del sindaco che abbiamo appena ascoltato di annunciare la chiusura delle scuole solamente a notte inoltrata. Anche in questo caso seguiamo il nostro servizio. Bene, il servizio andrà in onda questa sera in una nuova edizione. La straordinaria nevicata della notte appena trascorsa ha regalato scorci di una cività vecchia assolutamente inedita e situazioni del tutto inconsuete che difficilmente potranno essere riviste. Nel nostro servizio senza commento una serie di suggestive cartoline. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Immagini certamente inconsuete nella nostra città, in molti casi suggestive, in qualche caso anche divertenti e naturalmente tanti disagi. Disagi anche provocati dalla neve nei comuni del comprensorio, nel reportage inviato da Sonia Bertino. La situazione che si è riscontrata da questa notte nei comuni di Ladispoli e Cerveteri. Vediamo. Niente trasporto pubblico locale oggi per i residenti di Ladispoli e Cerveteri. La sospensione del servizio è una delle conseguenze del manto bianco che la scorsa notte ha ricoperto le due città del comprensorio. Come preannunciato nei giorni scorsi, infatti, Burian non ha risparmiato nemmeno il ritorale, tanto che sempre in nottata i sindaci di Cerveteri e Ladispoli hanno emanato un'ordinanza di chiusura delle scuole per la giornata di oggi. In entrambi i comuni i volontari della Prociv stanno lavorando a lacrimente per liberare le strade dalla neve. Rambi d'alberi caduti in zona Sasso e in via Zambra, una volta terminato il lavoro nei centri urbani, quanti stanno lavorando per rimuovere neve e ghiaccio dalle strade, si sposteranno nelle aree periferiche che ancora registrano disagi. Chiusi a Ladispoli la biblioteca comunale, il centro di arte e cultura, i mezzi meccanici hanno già provveduto a liberare le strade, ma il sindaco Alessandro Grando ha invitato i cittadini ad usare l'auto solo in caso di estrema necessità. Altra importante raccomandazione fatta dal primo cittadino Ladispolano è quella di non sostare sotto gli alberi, visto che i rami a causa del peso della neve potrebbero precipitare al suolo. Nessun problema di viabilità per quanto riguarda l'autostrada A12, anche sulla via Aurelia al momento non sembrano esserci criticità ma si invita la popolazione a prestare attenzione. Sospesa invece la circolazione ferroviaria sulla F15 da E per Roma Termini e la circolazione dei cotral fermi in deposito. Nonostante il freddo, già da questa mattina all'alba sono stati tanti i ladispolani che hanno invaso le vie del centro abitato per godersi questo raro spettacolo. L'ultima nevicata abbondante a Ladispoli infatti risale al 2012 e rispetto a quella registrata in quella data, quella della scorsa notte sembra essere stata ben superiore. Niente da fare, i cassonetti continuano a bruciare. Anche nella serata di sabato sono stati date alle fiamme due contenitori dei rifiuti, entrambi nella zona compresa tra via Buonarroti e il Bricchetto. Sul posto per sedare l'incendio, il terzo nelle ultime tre serate della scorsa settimana, sono intervenuti i vigili del fuoco della Bonifazi. La vicenda del piromane che prende Dimire Cassonetti sta dunque assumendo contorni inquietanti. Si tratta infatti di verificare se l'autore degli atti incendiari sia sempre il 45enne denunciato per due volte dai carabinieri, la prima il 16 febbraio e la seconda nella serata di venerdì scorso, ossia ad agire sia a qualche altra persona magari per puro spirito di emulazione. Certo, il fatto che gli episodi siano circoscritti sempre nella stessa fascia centrale della città fa supporre che la mano possa essere sempre la stessa. Tempo di lupi e di comunisti, la storia mitica della ragazza che sfidò la mafia. Libro di Vera Pegna sarà presentato mercoledì prossimo con inizio alle 18 presso il Salotto delle Idei, fondazione bancale in via Terme di Traiano 25. Si tratta di una iniziativa organizzata dal Comitato Territoriale Potere al Popolo di Civitavecchia, Santa Marinella, a Lumiere e Tolfa e che vedrà la partecipazione oltre che dell'autrice di Germano di Francesco, candidato alla Camera dei Deputati con la lista proprio Potere al Popolo. L'amministrazione comunale di Civitavecchia ha inoltrato la richiesta di circa 500 mila euro di finanziamenti regionali per consentire l'ottenimento di ulteriori due certificati protezione incendi per la scuola Cialdi di Via Buonarroti e per la scuola media Don Papachini di San Gordiano. Nel caso di ottenimento di questi due finanziamenti, afferma l'assessore all'edilizia scolastica Leicis, ci rimarranno solamente due istituti ancora privi di CPI per arrivare all'ambizioso traguardo di coprire il 100% delle scuole cittadine. Risultato di non poco conto, calcolando che dal nostro insediamento ad oggi sono stati già ottenuti 4 CPI. Un bando per la festa dell'infanzia, quello pubblicato sul sito istituzionale del Comune Civitavecchia alla ricerca dei soggetti interessati alla realizzazione dell'evento. La festa dell'infanzia è un evento che ha riscosso notevole successo negli anni passati, afferma l'assessore all'istruzione Alessandra Leicis, e che è utile sia per le strutture scolastiche che per le associazioni, oltre che per i genitori. I termini per partecipare alla manifestazione di interesse scadono il 16 marzo. Per informazioni a disposizione dell'Ufficio Pubblica Istruzione ai numeri telefonici 0766 590 922 oppure 0766 590 929. Bene, termina qui questa edizione del nostro telegiornale, ma restate con noi perché tra qualche istante arrivano le notizie di Sportime 24. A risentirci. Buongiorno da Sportime 24, arriviamo con il calcio, ritorno alla vittoria per il Civitavecchia. I nerazzurri da reduci da tre sconfitte consecutive hanno ottenuto tre punti preziosissimi nello scontro salvezza del fattore contro l'atletico Vescovio, battuto per 2 a 1. Nel rete De Santis, nel primo tempo Marino su calcio di rigore al 23esimo della ripresa e Masi a segno per l'unico gol degli ospiti. Vediamo l'intervista nel posto partita. Francesco De Santis, oggi non è stato facile trovare i tre punti, però dopo tre sconfitte consecutive quanto erano importanti? Erano importantissimi questi tre punti, erano fondamentali anche per smuovere la classifica. Siamo arrivati a 30, come voleva il mister, un obiettivo molto importante, adesso ci godiamo questa vittoria e pensiamo alla prossima. La partita l'hai sbloccata tu, un gol davvero importantissimo possiamo dire così? Sì, sì, è importantissimo soprattutto anche per me perché è il primo gol a fattori, quindi è un'emozione unica. Sono contento di aver sbloccato la partita e di aver dato il mio supporto alla squadra. Siete fiduciosi su questa salvezza? Adesso, come hai detto tu, state a quota 30, vi tirate un po' fuori da quella zona play-out e soprattutto dopo queste tre sconfitte consecutive, alcune delle quali magari non meritavate di perdere? No, soprattutto con la streame da un minimo un pareggio. Come ho già detto, dopo queste tre sconfitte, meno male che abbiamo trovato la vittoria, siamo arrivati meno male a 30 punti. Niente, bisogna pensare a partita dopo partita, questa qua è la nostra mentalità. E adesso avrete un'altra sfida salvezza contro la Levante, o anche lì una partita in cui conquistare dei punti importanti? Molto tosta la Levante, già ci ho giocato. Bisogna pensare a partita dopo partita, questa qua è la nostra mentalità. Bisogna fare bene a Levante e prendere punti. Ancora calcio, doveva essere una trasferta di quelle comune da raggiungere in poco tempo e dalla quale tornare con i tre punti. Invece, l'incontro di ieri con il canale Monterano si è rivelato un'autentica delusione per la CPC. Portuali, nonostante un catracchia ancora su livelli extra lusso e autore di una doppietta, sono stati superati per 3 a 2 da padroni di casa. Le terminanti nella sconfitta dei Rossi sono state le amnesie difensive in occasione della seconda e della terza rete del canale, arrivata ad un minuto dal termine. Con la sconfitta di ieri, la formazione di Emanuele Blasi mantiene il terzo posto a nove lunghezze dalla capolista Ottavia. Le speranze di un successo diretto all'eccellenza sono ormai ridotte al lumicino. Palla a mano, una sconfitta che fa male per la classifica ma non per il morale. Quanto ha portato via la Flavioni dalla trasferta contro il Cassano, Magnago persa per 26 a 20. Gara sempre in mano ai padroni di casa, terza forza della classifica, anche se il 7 di Coccio Pacifico si è espresso bene contro una formazione più forte nonostante le molte palle perse. Sugli scudi Chiara Bonamano con 6 gol, ciò che preoccupa il contemporaneo pareggio della Ferrara nel derby contro l'Estenze che fa aumentare a 3 i punti da recuperare per la conquista della salvezza a 5 sfide dal termine. Basket non è riuscita dalla Stemar 90 alla conquista dell'ottava vittoria consecutiva sulla parchè della palestra del San Paolo Ostiense. È arrivata una netta sconfitta con i padroni di casa che si sono imposti per 77 a 58. Al termine di un match è rimasto equilibrato solo fino all'intervallo. Alla fine del secondo semitempo, infatti, i rossoneri erano sotto solo di una lunghezza, ma alla ripresa del gioco i capitolini hanno ulteriormente stretto le maglie difensive, imbrigliando in particolare Pebble e Morrison e sul piano offensivo hanno tempestato di triple il canestro della Stemar. Adesso i rossoneri sono al terzo posto della graduatoria, ma devono recuperare mercoledì sera il match con la capolista Stella Azzurra Viterbo. E chiudiamo con la pala a volo, altro passo in avanti in chiave salvezza per la Serramenti Sartorelli-Asp sabato sera al Palasporti-Rosso-Blu si sono sbarazzati del Velletri per 3-0 al termine di una gara praticamente perfetta. Stefanini e compagni si sono imposti sin dalle prime battute del match e si sono portati a più 6 sulla zona play-out. Risultato rotondo anche per la Margut Asp in Serie C femminile. Domenica sera Iengo e compagni hanno espugnato agevolmente il campo dell'Aprilia, penultima forza del Girone A, con il punteggio di 3-0. Una vittoria che non cambia la classifica, Margut Asp sempre al terzo posto ad un punto di distanza dall'Omia e a 5 punti di lunghezze dalla capolista Roma 7. Bene, era questa l'ultima notizia di questa edizione di Sportime 24. Prima di lasciarci vi ricordo che dopo la sigla andrà in onda come riconsueto la nostra rubrica medio. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Grazie.